SONO TORNATI I TROTTATORI del premio Riviera. Un miglio da percorrere, un milione da guadagnare. I favoriti sono subito in rottura e Roberto Bottoni butta in testa con prontezza Cinci che ha il numero 4. De lei però gli si mette a ruota con Rossella che porta il numero 7. La corsa è in palio soltanto fra loro due ed è velocissima. Cinci tira come un dannato, quasi a orgogliosa sfida gli scommettitori che non gli hanno dato fiducia e non l'hanno quotato. Eppure l'estate scorsa sulla stessa pista ha vinto 10 gare. Ma ecco Rossella, l'ultima curva, portare un attacco a fondo. La lotta è emozionante. Cinci resiste ma la femmina conquista sempre più terreno. Lo raggiunge, gli si appariglia. Sul palo sembra averce la farda. Cinci però è primo e lo conferma la fotografia. Ha avuto la sua rivincita sugli uomini.